Questo video riguarda i migliori 3 burro cacao con protezione solare SPF. Il vincitore della qualità è il Bilboa Kit Protezione. L'alleato ottimo della tua estate? Il Kit Routine Alte Protezioni Bilboa è ottimo per una bronzatura protetta e luminosa più a lungo. Appositamente studiato per proteggere, idratare e rispettare tutti i tipi di pelle. Il latte burro cacao con vitamina C e fattore di protezione 30 idrata, nutre e protegge anche le pelli più delicate. Il pratico formato della viso e corpo SPF 50 più è ottimo per avere sempre a portata di mano una protezione solare avanzata sia per la pelle del viso che del corpo. Mentre il doposole idra bronze è studiato per mantenere la bronzatura e ristabilire il giusto livello di idratazione. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Elan Sole Bimbi. Scorrevole e leggero, arricchito di succo di aloe vera e olio di mandorle dolci, ha una texture morbida e cremosa. Indispensabile per labbra, naso, orecchie e spalle, offre alle zone più sensibili, un'ottima protezione sia dall'intenso riverbero del mare che dal sole d'alta montagna. Di facile spalmabilità ed elevata resistenza all'acqua, protegge efficacemente e in modo naturale la delicata pelle dei piccoli da scottature ed eritemi solari. Stendere sulle zone a maggior rischio avendo cura di non andare troppo vicino agli occhi e ripetere frequentemente l'operazione soprattutto in caso di bagni frequenti. La mission dell'azienda è stata, fin dall'inizio, quella di formulare e produrre cosmetici pensati e realizzati in armonia con la fisiologia cutanea, la natura, l'ambiente e il mondo animale. Il vincitore del premio è il Bilboa Burro Cacao. Crema solare Burro Cacao con fattore di protezione 30 La linea Bilboa con vitamina C, la vitamina più conosciuta per le sue caratteristiche benefiche per la pelle, i suoi poteri antiossidanti e fotoprotettivi la rendono infatti ottimale per proteggere la pelle dai danni del sole. La speciale formula pelli delicate risulta ottimale anche per le pelli più sensibili, infatti tutta la linea Burro Cacao con vitamina C e senza alcol applicare il prodotto abbondantemente prima dell'esposizione al sole. Riapplicare frequentemente, specialmente dopo i bagni e l'uso dell'asciugamano. Non esporre neonati e bambini alla luce diretta del sole. Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde. Evitare il contorno degli occhi, nel caso di contatto risciacquarli immediatamente. Usare un fattore di protezione adeguato alla pelle e all'intensità del sole. Evitare il contatto con tessuti che potrebbero essere macchiati. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.